Addio al rilascio di nuovi iPhone ogni anno, addio al rilascio di Apple Watch ogni anno, addio ai dispositivi Apple aggiornati ogni anno. Questo potrebbe essere quello che sta passando per la mente di Tim Cook e soci che stanno valutando proprio l'idea di calmarsi, prendersi un po' di respiro e concentrarsi di nuovo sulla qualità piuttosto che la quantità. Questa è una descrizione data da Mark Gurman, non proprio l'ultimo arrivato ed è uno che veramente ci prende sempre perché è dentro e da quando ha rilasciato questo suo articolo il web ha iniziato fortemente a discuterne ed è quello che faremo anche oggi in questo video. Vi racconterò di cosa sta pensando Apple, di come potrebbe evolversi il futuro e poi come sempre ne discuteremo insieme. Direi di partire dalla cosa più evidente, ovvero gli errori commessi da Apple quest'anno, perché ce ne sono stati un bel po'. L'idea che ci siamo fatti dei nuovi iPhone, dei nuovi prodotti, è che qualcuno magari è veramente stato completato, è stato migliorato, qualcun altro per velocità, per mancanza di tempo, è stato, come diciamo qui da noi, un po' appezzottato e quindi non ha veramente introdotto un effetto wow e qualcosa che possa far propendere dei vecchi possessori di iPhone a cambiare. O addirittura, peggio ancora, Apple Watch, caso più eclatante, è stato rilasciato il serie 10, questo che, sì, migliora qualcosina, ma veramente se avete il 9 non serve cambiare, ma anche se avete l'8, e addirittura non c'è stato un Ultra 3 perché non c'è stato il tempo materiale e quindi cosa si sono inventati? Una nuova colorazione di Ultra 2. La verità è una, la verità è che Apple è indietro con l'intelligenza artificiale, non poteva permettersi di rimanere indietro e quindi ha spostato l'attenzione e gli sforzi su questo. Ma anche qui c'è un problema. Per la prima volta nella storia Apple ha fatto una cosa che di solito non fa. Ha annunciato a giugno l'intelligenza artificiale, ha annunciato che sarebbe arrivata a scaglioni, ma quando ha presentato i nuovi iPhone ha detto che sono stati creati specificamente per supportare l'intelligenza artificiale. Ma al momento dell'uscita l'intelligenza artificiale non c'è e soprattutto sul sito ufficiale non si parla altro che di intelligenza artificiale, e quindi delle potenze e della potenza che può dare questo strumento. Dunque, uscito un prodotto, manca l'intelligenza artificiale che in America arriverà a brevissimo, però questa è una cosa che fa capire che c'è un certo affanno. Errori di strategia? Errori di valutazione? Non lo sappiamo perché all'interno di Apple non ci siamo, tuttavia però la buona notizia è che si sono accorti che qualcosa non va. Così non si può andare avanti. Ed effettivamente ragazzi, in questi anni, da quando è stato rilasciato il processore M1, non so quanti MacBook Air sono arrivati, quanti MacBook Pro sono arrivati, quanti iPhone sono arrivati, cioè veramente, quanti iPad sono arrivati. Quindi veramente Apple sta rincorrendo, rincorrendo, rincorrendo con una strategia che ogni anno potrebbe introdurre nuovi prodotti. Da una parte magari è una strategia che può fare del bene, ma non stiamo parlando di prodotti economici e soprattutto la forza di Apple è sempre stata quella di supportare negli anni con gli aggiornamenti i suoi dispositivi. Basti pensare che siamo ad iOS 18 ed è ancora disponibile, per dirne una, sull'iPhone XS, cioè dopo l'XS c'è stato XS 11, 12, 13, 14, 15, 16, ragazzi, 7 anni, cosa incredibile. E questa è l'Apple che ci piace, questa è l'Apple a cui siamo abituati e che forse ha un po' avuto un momento di smarrimento. E' anche vero che la storia ci insegna che loro non sono mai arrivati prima di tutti, però hanno sempre fatto le cose per bene e meglio. Ecco, forse per la prima volta non è accaduta questa cosa. Non è stata fatta per bene, non dico meglio perché comunque quello che arriverà, poi lo vedrete anche voi, con l'intercessione artificiale è stata fatta bene, almeno dai primi test, però non è stata fatta con lo stile Apple a cui noi siamo abituati. Quindi Apple sta seriamente pensando di calmarsi e fermarsi. E devo essere onesto, secondo me siamo anche in un punto storico dove la tecnologia sui dispositivi mobili è anche abbastanza evoluta e avanzata, dove tra l'anno e l'altro non abbiamo così tante differenze. Magari far uscire un iPhone ogni due anni, far uscire un Mac ogni due o tre anni, far uscire un prodotto non ogni anno, ma migliorarlo con i software e quindi l'ottimizzazione potrebbe essere una grande idea. Personalmente parlando sono favorevole, non penso che l'azienda perderà terreno, anzi potrebbe riacquistare anche fiducia da quegli utenti che ultimamente sembrano un po' scontenti. Ci stanno veramente pensando. Se sarà così già da quest'anno, non ve lo so dire. Se sarà solo un articolo che è nato e morto lì e quindi poi ci ripenseranno di nuovo e continueranno a sfornare prodotti ogni anno, non ve lo so dire. Però già il fatto che se ne discuta vuol dire che un campanello di allarme si è attivato. Vediamolo poi anche dal punto di vista dell'azienda stessa. Cioè, può stare più tranquillo, i dipendenti possono essere più sereni nel lavorare su qualcosa e avere anche più tempo per arrivare a fare meglio. Comunque un'azienda come Apple non può permettersi di lasciare degli aggiornamenti, software con bug importanti, con lacune importanti. Questa cosa non deve accadere e non è mai accaduta. Quindi non se lo può permettere. E poi ci sarà tutto il tempo per pianificare a livello marketing tutto quello che serve per avere un effetto wow. Che sicuramente sarà più importante e comunque più sicuro rispetto al fatto di sviluppare qualcosa in pochi mesi. Ora quello che sappiamo è che è abbastanza certo che dal primo novembre, o meglio il primo novembre, dovrebbe esserci un evento Apple proprio per andare un po' contro a quello che vi sto dicendo e quindi presentare nuovi Mac, nuovi iPad, insomma qualche novità. Io non mi aspetto onestamente un effetto wow da questi prodotti perché sono, tra virgolette, un avanzamento di tecnologia giustamente ma, come vi dicevo, non c'è quel abisso tra i precedenti modelli. E anche questa volta non sarà così. Molto probabilmente, eh. Ora non è che voglio essere proprio smentito questa volta con le ultime parole famose. Dunque, se dal punto di vista hardware siamo in un periodo in cui Apple si può permettere, secondo me, anche di prendersi, non dico una pausa, ma di rallentare e quindi far uscire qualcosa di importante ogni due anni, dal punto di vista software invece bisogna spingere perché a livello software bisogna essere sempre sul pezzo, bisogna essere concorrenti, concorrenziali e soprattutto essere lì a non dare un sistema che sia instabile. E poi, comunque, questa grana con l'Europa, eh, ragazzi, un po' di, diciamo, lacune all'interno della strategia di Apple la sta portando. Perché l'azienda ha un'idea e poi si trova dei paletti o comunque si trova dei divieti e dunque anche questo potrebbe frenare un po' di entusiasmo e far rivedere un po' di strategie. Come si vuol dire, abbiamo aperto il vaso di Pandora, ci sarebbe da parlare veramente tantissimo, da discuterne. e non sappiamo se adesso con questo articolo e questo video, vi ripeto, siamo di fronte soltanto al primo passo verso una svolta storica oppure Apple continuerà ogni anno ad aggiornare e a sfornare. Prodotti sia a livello hardware che a livello software. Non ho altro da dire. Mi piaceva l'idea di discutere con voi di questa novità, di questa news, un po' rumors, quindi se volete lasciate un commento e ne parliamo insieme. Noi ci vediamo molto presto. Ciao ragazzi!